Un tir è uscito fuori strada questa mattina sull'altopiano delle 5 miglia per evitare un bus che stava transitando nei pressi dell'hotel sul territorio comunale di Roccaraso. Sono stati momenti di panico per il conducente che fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze dopo l'incidente. Il mezzo pesante sarebbe uscito fuori strada proprio per le condizioni del manto stradale reso particolarmente viscilo dalla neve e dalle gelite temperature. Tanto è bastato per far riaccendere le polemiche sul taglio degli alberi che ad onor del vero in quel tratto di strada si è reso necessario proprio per questioni di sicurezza visto i numerosi scontri che si sono succeduti negli anni anche gravi e mortali. L'ondara di mal tempo con il generale Inverno che ha bussato alle porte ha lasciato danni anche in Valle Peligna e in Valle Stubequana. Questa mattina in località Castelvecchio-Subeco sono caduti dalla carreggiata alcuni pali telefonici che impediscono il transito del tratto di strada da Piazza San Rocco verso la via per Galliano Aterno. Un palo della luce è precipitato anche nella frazione di Bagnaturo a Sulmona mentre ieri sera a Cocullo un'auto è uscito fuori strada finendone una scarpata. I due occupanti di Anversa degli Abruzzi feriti in modo lieve sono stati trasportati in ospedale.